Grazie a tutti. Di sentirmi offeso per le gravi parole che erano state rivolte non soltanto a me, ma al mio paese che era stato illustrato da alcuni interventi come un paese dove non esiste la democrazia, dove c'è un regime autoritario. E poi avevo fatto questo passaggio che era rivolto non tanto al contenuto dell'intervento del deputato tedesco, quanto al suo modo di gestirsi e al tono della voce. Che nella mia memoria mi aveva ricordato lui Schultz, un altro Schultz, che è quello di una serie televisiva degli anni 65-70, che si chiama Gli eroi di Hogan, Hogan Heroes, in cui c'era proprio un sergente Schultz che sbraitava, che alla fine era anche un bonaccione e a cui i prigionieri ne combinavano di tutti i colori. Quindi non credo che nessuno possa sentirsi offeso per una battuta che voleva soltanto essere ironica. Grazie. 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 Grazie.